Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Grazie, grazie, grazie! Siamo arrivati a 30.000 iscritti! Sono commossa! Su TrovaVolantini.it, le offerte della tua città, a portata di un click! Prova ad indovinare il nome dell'albero che pianteremo! Lo regaleremo ai primi tre! Scrivilo nei commenti sotto il video! Eh no, non si tratta dell'ulivo, come hanno scritto molti di voi! Riprovate! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurostin. Non manca tanto, dai! Mi piace MDI? Continua a seguirci e vedrai l'anteprima prima di tutti! Ehi, ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino leader! Non perderti l'anteprima! Che ne pensi di queste offerte? Scriviti nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!